Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Quest'oggi voglio parlare di quali sono i documenti necessari nel caso in cui si volesse andare in Thailandia per una vacanza o per un periodo un pochino più lungo. Se mi vedete guardare in basso è perché mi sono fatto un piccolo appunto, perché insomma non sono poche cose quelle che vengono richieste, quindi cercherò di essere il più preciso possibile. Quindi il primo documento necessario ovviamente è il passaporto come sempre, quindi andare in Thailandia serve appunto avere un passaporto ancora valido. Dopodiché abbiamo bisogno del visto, quindi dimentichiamoci per un attimo come succedeva in passato, cioè si arrivava in Thailandia e mostrando il passaporto si otteneva il visa on arrival per 30 giorni, ora bisogna richiedere un visto. Quindi per tutto ciò che riguarda il visto il consiglio è di scrivere all'ambasciata che vi indica qual è il visto più idoneo a voi, questo perché dipende dalla durata del vostro soggiorno, dipende anche dal vostro status, per esempio se avete una compagna magari sposata, quindi thailandese, quindi consiglio semplicemente contattate loro che sul visto sanno dirvi eventualmente qual è la formula più opportuna. Oltre al visto serve un ulteriore documento che è legato appunto a questo periodo particolare che è il certificato di ingresso che in inglese viene definito Certificate of Entry. Per questo c'è un sito dedicato che vi inserirò in descrizione nel quale da lì direttamente potete andare a inserire i vostri dati e fare la richiesta. Questa richiesta che si fa online può essere fatta addirittura precedentemente rispetto alla richiesta di visto. Da questo portale dovete inserire tutte le vostre informazioni, quindi dati personali, passaporto e quant'altro e anche i dati relativi alla polizza sanitaria. Quindi come già anticipato la polizza sanitaria è un ulteriore documento necessario. Lui era anche in passato in realtà perché chi voleva viaggiare diciamo in sicurezza ha sempre comprato la polizza sanitaria. In questo frangente però sarà necessario acquistare una polizza medica che copre anche la causa Covid e la copertura deve raggiungere la copertura di 100.000 dollari americani. Questo è importante perché è espressamente richiesto questa cifra. Quando comprate la polizza vi chiedo di fare attenzione perché alcune polizze lasciano sulla parte Covid circa 15 giorni di scoperto che vuol dire che fondamentalmente rende diciamo non valida questa polizza per la vostra richiesta di ingresso in Thailandia. Quindi spendeteci un pochino più di tempo, fate attenzione e siete sicuri che la garanzia coppa sin dal primo giorno del vostro arrivo in Thailandia. Per quanto riguarda poi la prenotazione alberghiera, anche qui come abbiamo già detto in video precedenti, in questo momento la Thailandia chiede a chi arriva dall'estero 14 giorni di quarantena a Bangkok. Quindi bisogna cercare un albergo nel quale fare questo periodo di quarantena. Se cercate su Google ASQ Reservation, quindi ASQ Reservation, troverete i posti alberghi che sono in grado di offrire questo servizio. Dovete fare 14 giorni appunto di quarantena nel quale sarete in una stanza più o meno bella secondo il quanto volete spendere, dove vi porteranno i posti, verrete testati regolarmente per quanto riguarda il Covid e ci sarà comunque uno staff in grado di aiutarvi. Però fondamentalmente dovete stare chiusi in un piccolo appartamento, in una camera, utilizzando sì Wi-Fi, magari avete un pochino di spazio per fare qualche attività fisica, però questo è in sostanza quello che potete fare. Prezzi di questi alberghi non sono, diciamo, bassi, non sono prezzi tipici di alberghi italandesi. Io ho fatto qualche ricerca su internet e possiamo dire che il minimo per 14 giorni sono circa 30.000 Watt, quindi diciamo che è una cifra comunque non bassa, se parliamo di 800-900 euro per 14 giorni. Quindi questo va poi considerato quando si fanno i calcoli di quanto vorrete o andrete a spendere per questo viaggio in Thailandia, soprattutto anche la durata del viaggio, quindi se devo fare chiaro 14 giorni in quarantena, probabilmente ha poco senso andare in Thailandia se posso starci 3-4 settimane, ci posso stare un pochino più di tempo, probabilmente può avere un senso, può essere così una scelta anche piacevole. Oltre a questi documenti vanno aggiunti il certificato free to fly e il certificato COVID-free da fare entro 72 ore prima della partenza che attestino appunto che voi non abbiate questo virus nel vostro corpo e quindi siate idonei per il boarding e per salire sull'aereo che vi porterà quindi a Bangkok. Quindi questi sono i documenti necessari che dovrete anche ovviamente portare con voi fisicamente al vostro arrivo. Questo certificate of entry di cui vi parlavo che viene fatto tutto online è un processo a step, cioè nella prima parte viene fatta una richiesta, la parte vostra con i primi dati inseriti, una volta che questa richiesta dopo circa 2-3 giorni viene accettata, voi rientrarete in questo sito, troverete appunto richiesta accettata, nella seconda fase vi chiederanno i dati relativi a volo e accommodation, quindi albergo, dopodiché quando la pratica va avanti e verrà completata, vi verrà proprio generato un file, un foglio che è questo certificate of entry che voi dovete stamparvi e portare con voi il vostro bagaglio umano e da mostrare al vostro arrivo all'aeroporto su Varnavolo. Quindi questo è un pochino quello che vi aspetta, se avete idea, di recarvi in Tainania nei prossimi mesi direi. Come sempre, se il contenuto del video vi è stato utile, lasciate un like al canale per supportarlo, dal video per supportarmi, se avete domande o volete condividere qualche pensiero sull'argomento, fatelo pure, sarò ben detto di rispondervi e come sempre, al prossimo video, ciao, grazie.